Fondazione Lynx Fondazione Lynx I vent'anni prossimi sono tutti da scrivere, come ho detto prima, dobbiamo costruire insieme le nostre missioni, le nuove tecnologie e il futuro di quello che saremo. Saremo certamente un ente di innovazione, un ente di trasferimento tecnologico e un ente di ricerca applicata ma anche di ricerca di frontiera. Tutto questo insieme già lo stiamo facendo, lo faremo ancora di più, ancora meglio e ancora più potenziato. Forte della collaborazione di centinaia di ricercatori, la fondazione presidia discipline tecnico-scientifiche che rientrano negli ambiti delle tecnologie digitali e dello sviluppo territoriale. E poi la festa. C'è tanta sostanza, quindi non solo forma ma tanta sostanza, tante persone, tante esperienze diverse e è un'emozione grande sicuramente da parte di chi, soprattutto da parte di chi probabilmente l'ha vissuto proprio dall'inizio. Un centro di ricerca davvero capace di produrre ricadute e impatti sul territorio, con un futuro davanti molto interessante e in gran parte ovviamente da scrivere. Sono stata coinvolta nella scrittura di due progetti europei di cui speriamo avremo dei buoni riscontri adesso a dicembre e tra cinque anni mi vedo sempre ricercatrice e speriamo con molte più competenze che sto acquisendo in questo periodo in Lynx. Notevole anche il beverage, tutto ottimo, perfettamente allestito, gran lavoro, complimenti agli organizzatori.